Segui La Sette anche su Instagram, La Sette ovunque con te. E sul fatto che all'interno del Movimento 5 Stelle stesso manca una sorta di luogo per cercare di chiarire le proprie idee e dice Valente in un'intervista dove dice dovremmo essere il Partito Verde in Italia e invece stiamo con i balneari, riferimento proprio a quelle che sono state le dinamiche all'interno del governo per quanto riguarda un tema molto molto caldo. E dice Valente se questa riflessione generale quando e dove dovrebbe avvenire? Se ci daranno un luogo, un momento per discutere sarà giusto esserci ma siccome non mi pare ci siano qualcuno deve pur dire queste cose. Non si può far finta che non sia successo nulla. E' forse questa la cosa che manca all'interno del Movimento 5 Stelle? Cioè trovare un modo dove i leader, i big del partito trovino, si è molto parlato del dualismo tra Giuseppe Conte e Luigi Di Maio sul fatto che oggi Travaglio lo scrive anche nel suo editoriale, è il momento di andare fuori, magari uscire fuori dalla maggioranza ma dare un appoggio esterno. Scusate ma io penso che alla fine alle persone e ai cittadini interessi di più che parliamo con loro e non certo che discutiamo sempre delle dinamiche interne al Movimento 5 Stelle che interessano poco. Noi i confronti li abbiamo continuamente tra di noi anche perché con i colleghi siamo tutti in Parlamento e ci stiamo riorganizzando sui territori anche gli strumenti che ha dato Conte ieri sull'organizzazione territoriale, sui forum di discussione, sulla nostra scuola di formazione politica. Ci sono tutti strumenti per incentivare la partecipazione delle persone al Movimento 5 Stelle. I chiarimenti all'interno del Movimento ci sono, ci saranno e come è sempre stato in tutti questi anni, quindi i luoghi in realtà ci sono già, questa organizzazione serve a darne ancora di più. Sui dati che citavate prima manca, e ripeto, il dato più importante che secondo me è quello che spaventa di più e su cui dobbiamo lavorare. Un elettore su due non è andato a votare, cioè qui siamo di fronte a persone che sono soprattutto quelle che magari prima avevano fiducia in noi, che sono rimaste a casa, non è che hanno scelto altri candidati. Hanno scelto di non andare a votare. Questo è il dato su cui noi adesso, che ci preoccupa e su cui vogliamo lavorare. Un elettore su due del Movimento 5 Stelle non è andato a votare. Certo, questo intendevo. Nel senso che poi come si mobilita quell'elettore? Quindi noi siamo qui per lavorare e per cercare di ridare fiducia a tutte quelle persone che oggi sono scontente e che non trovano più una ragione per andare al seggio e dare la propria preferenza al Movimento 5 Stelle o che comunque non trovano più un'offerta politica adeguata. Questo è il lavoro da fare, dopodiché sul fatto di minacciare o meno da mesi l'uscita dal governo, qui non si tratta di minacce, si tratta di non dare sostegni incondizionati quando ci sono delle scelte che sono lontane dalle esigenze delle persone e qui non è il discorso di povero draghi, poveri cittadini, ma sarebbe conveniente per noi uscire domani mattina dal governo? Se facessimo calcoli elettorali usciremmo anche oggi stesso, cresceremmo a dismisura come fratelli d'Italia. Il fatto di rimanere invece è un'assunzione di responsabilità e anche di carico nei confronti delle persone che credono di dover avere delle risposte e di dover risolvere problemi, non soltanto parlare. Se si sta al governo i problemi si risolvono perché ci si mette la faccia in prima persona e si cercano delle soluzioni. Se si sta all'opposizione, io l'ho fatto per cinque anni, abbiamo fatto tante battaglie ma purtroppo non si ottengono dei risultati. In questo modo i risultati si ottengono e come? In una battuta, visto che alla fine del mese arriverà anche la sentenza del Tribunale di Napoli per quanto riguarda le vicende che riguardano lo statuto del movimento stesso, Lei crede nella possibilità, eventualmente, se dovesse andare male, di far nascere una nuova creatura, chiamiamola così, all'interno del movimento? Magari una lista collegata proprio al nome dell'ex presidente Conte? L'ho già ribadito lo stesso Conte ieri, il Movimento 5 Stelle ha ancora una forza propulsiva nel paese che secondo noi va tutelata e quindi siamo convinti che bisogna continuare, altrimenti lo avrebbe già fatto Giuseppe Conte, ma ha pensato a noi e non all'io. Ok, vado da Alessandro Cattaneo perché abbiamo fatto un solo...